L'orto di verdure perché appunto si fa questo orto di verdure e poi si dà un'indicazione appunto del palazzo. Eccoci qua, adesso vi faccio vedere un attimino proprio quali sono oggettivamente, quindi continuiamo con la fase del work in progress, quali oggetti sono stati depositati e come. Allora, vabbè, qui così ovviamente abbiamo tracciato la linea, perché doveva essere ovviamente, a parte per una questione appunto di pure ordine, però appunto doveva essere regolare. Vedete che ad ogni 30 centimetri circa venivano messe un trasponder, che era quello che vi dicevo prima. E qui vediamo il nostro giardiniere all'opera, che proprio con delicatamente ovviamente interra proprio questi trasponder. Quindi, grazie. Mi serviva di vedere l'immagine prima? No, tutto chiaro? Ok, quindi il nostro non vedente arriva da noi, arriva come supernotazione. Noi abbiamo dedicato, siccome le nostre risorse sono, insomma, sono limitate, nel senso appunto che siamo pochi che si possono dedicare comunque le visite guidate, perché poi c'è tutto il resto da fare, allora abbiamo deciso, in accordo proprio anche con l'Unione Italiana Cerci più Vedenti, di dedicare, anche perché siamo comunque sperimentali, sperimentali, no? In questo senso, quindi andiamo a capire appunto come funziona proprio una giornata, che è quella del martedì, dove con regolarità ogni settimana è possibile appunto per i non vedenti prenotarsi, ovviamente perché dobbiamo regolare, non abbiamo ancora tantissimi bastoni, abbiamo cinque bastoni e cinque smartphone, e quindi venire appunto in orto. Noi li accogliamo, c'è qualche dubbio? Qualcosa che volete chiedere? No. Li accogliamo, e li accogliamo proprio qui dove c'è la mappa. Diamo loro, diciamo, il bastone e lo smartphone. Li regoliamo, li accendiamo, ogni bastone collegato con uno smartphone. Poi vi dicevo, il stesso stiamo dotando di Bluetooth e anche delle cuffiette, in modo tale che sia il più agevole possibile. E li portiamo davanti a questa mappa. Come vedete ho scritto, è fondamentale per l'orientamento, è importante questo orientamento. Allora, ecco, questa è la cosa che per esempio mi era sfuggita, a parte che io non so leggere le mappe, quindi non mi oriento neanche con l'iPhone, quindi capite che io sono proprio un caso disumano. però effettivamente loro, cioè è stato veramente particolarmente significativo, vedere appunto per esempio il, questo non vedente che avete visto prima anche nell'immagine, che poi è il vicepresidente appunto dell'Unione Italiana Cech, il direttore di dialogo nel buio, di cui sicuramente avete sentito parlare, giusto? quindi vedevo appunto che si orientava, cioè la guardava proprio con attenzione se mi ha detto a mappa, e che io gli ho detto, scusi ma, sorry, che cosa, cioè a voi è così importante, cioè che cosa vi dice questa mappa, perché poi vedevo che guardava bene i contorni, cioè sarà che io veramente sono un caso, non lo so, disperato, però a me è una mappa veramente, sì mi dà un'idea generale, però non è che mi orienta, cioè io proprio ho bisogno veramente del bastone per andare in giro, perché proprio non so proprio orientarmi, cioè l'idea generale mi muovo poi a riferimenti, però soprattutto se mi fai vedere una mappa così, cioè non mi serve per orientarmi, e lui invece mi diceva proprio questo, mi diceva che è fondamentale avere il perimetro generale per avere l'idea generale di dove si muovono, ok? Quindi il fatto di mettere il muro intorno, che dà proprio lo stesso, gli dà l'idea della grandezza, della grandezza e dello spazio generale nel quale potranno appunto muoversi, e poi entrano nel dettaglio, ok? Quindi lo registrano questa cosa, quindi la parte delle aiuole, i punti di interesse, che qui ovviamente abbiamo sintetizzato, no? Per loro serve poi per vedere dove si orientano, cioè da che parte iniziano, e quanto spazio c'è tra dove iniziano il percorso, e la parte, diciamo, di sinistra, e quindi la parte di destra. Cioè, quindi tutte queste informazioni sono essenziali affinché appunto il nostro vedente, non vedente, possa godere a pieno proprio della visita. Quindi, quello che io pensavo, ovviamente, nella mia somma ignoranza del caso specifico, e nel momento contingente, in realtà era una cosa fondamentale, quindi non serviva dare in mano loro semplicemente il bastone e l'auricolare dire vieni qua e parti, ok? Questa mappa ha un ruolo fondamentale. Ecco, l'altra cosa, attenzione all'orientamento. Questo è importante, perché appunto loro si devono orientare, quindi dove la poni, ok? E dove poni la parte dell'inizio del percorso, quindi l'ingresso deve essere l'ingresso effettivo. Sembra una banalità, ma in una prima versione c'è sfuggito, poi subito il nostro direttore diceva, no, ma aspetta un attimo perché se me la metti qui... Cioè, abbiamo proprio rifatto la mappa in modo tale che l'ingresso corrispondesse effettivamente al punto in cui loro potevano effettivamente prendere visione della mappa, quindi ti trovi qua ed era un luogo preciso e potessero poi svilupparsi il percorso. E poi vedete appunto tutto fatto in rilievo, quindi con le indicazioni ovviamente anche in braille. Quindi vedete qui il nostro non vedente, a cui viene consegnato il bastone, poi si muove, ecco lo... diciamo, lo si accompagna nel punto dove c'è il primo bip e dove il messaggio che avete visto prima diceva, ti trovi all'orto botanico di Brera, un breve messaggio appunto di illustrazione del palazzo, quindi del luogo, cioè di come usufruiranno dal percorso in maniera molto colloquiale, non prendi il tasto vai avanti, perché se no io ci avrei annunciato già in partenza, e quindi il nostro non vedente si muove lungo tutto quel percorso tracciato, quindi sentiranno, il primo percorso sono tutti dei bip, 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 poi a un certo punto tra un metro, perché anche questa cosa è importante, tra un metro troverai sulla sinistra una scatolina dove potrai alzarla e sentire l'odore che ne so della, ecco questa cosa. Quindi è importante dare prima il messaggio di quello che avverrà dopo, ok? Perché noi lo facciamo visivamente, loro hanno bisogno appunto di un messaggio di dire oppure tra tre metri devi girare a destra e poi quando sei lì sentiranno gira a destra, quindi tutti questi messaggi proprio di orientamento che sono appunto fondamentali oppure non so tra tre metri sulla destra c'è una panchina puoi sederti e riprendere il percorso quando vuoi. Altro elemento fondamentale perché se no uno pensa che oddio mi scade il tempo e come faccio a fare? Ok, questo era il allora andando avanti indietro ecco qui vedete appunto ancora uno spaccato questa è la prima parte praticamente del percorso cioè il percorso arriva qui dove vi ho fatto vedere prima e poi si sviluppa prima per questa area e poi imbocca proprio il diciamo il dialetto centrale allora una cosa fondamentale qui vedete il momento dell'inaugurazione per parte assessore c'è l'Unione Italiana Cech l'Istituto dei Cech il direttore e il Rotary appunto una parte essenziale che mi ha fatto molto piacere appunto sentire e che però appunto sfuggiva noi eravamo concentrati su altre cose che però è stata proprio sottolineata dal dottor Lisi e dal così dall'altro dal presidente praticamente dell'Istituto dei Cech e che questo percorso e anche questa tecnologia permette al non vedente di vivere questa esperienza con la propria diciamo normalità di persone che lo circondano quindi può venire con gli amici può venire con i familiari li permette proprio di vivere in socialità appunto questa esperienza non è una cosa che può farlo da solo e basta perché appunto il messaggio può essere ascoltato appunto da tutti possono sedersi tutti appunto sulle pacchine possono riprendere in qualsiasi momento insieme il percorso i messaggi che vengono appunto introdotti sono utili sia per il non vedente ma ovviamente anche per la persona o le persone che lo accompagnano e questo effettivamente se pensate è veramente una rivoluzione nel modo di vivere le esperienze anzi in un certo senso non è il vedente o l'accompagnatore che dice qualcosa al non vedente ma è un qualcosa che è fatto per il non vedente che viene trasferito appunto alle persone che vivono con lui cioè è bello che questo tipo di trasmissione di capovolgimento nel vivere nella modalità proprio del vivere appunto l'esperienza le criticità le criticità appunto sono fondamentali appunto per poter migliorare soprattutto quelli che impianteranno successivamente magari un percorso di questo genere allora a parte gli avvertimenti diciamo che vi ho detto prima una cosa per esempio però era sfuggita anche diciamo a coloro che avevano l'espertise in materia era cosa appunto non banale proprio l'uso del mezzo col quale una persona si orienta per scoprire così che non tutte le disabilità vengono superate in un unico modo ok noi diciamo cieco uguale bastone quindi e no cioè non tutti usano questo modo c'è chi usa il cane per esempio il cane guida altri che invece hanno semplicemente l'accompagnatore e quindi questo è uno dei problemi che abbiamo dovuto risolvere in corso d'opera o meglio lavoro finito e quindi innanzitutto mettere nell'avvertimento che il percorso è testato per le persone che usano appunto il bastone già per orientarsi perché badate non tutti lo sanno usare perché non è mica così semplice c'è un gioco proprio di polso che vi assicuro che ci ho provato poi mi racconto una parentesi simpatica di quelle che succedono gli aneddoti delle cose che succedono quando stai facendo una veretta cosa non è assolutamente facile c'è una scuola che insegna proprio a come usare il bastone perché uno ti viene un mal di posto che poi è veramente la tendinite del bastonista anziché del tennista perché veramente il bastone comunque pesa e soprattutto devi avere un andamento regolare uno perché è fatto praticamente ad arco però non deve essere un arco come facevo io che diventava praticamente una cosa impossibile cioè quindi uno perché riesci in questo modo a captare correttamente i messaggi e non te ne fai passare tre ogni volta che fai un arco di quelli che appunto sono arcoi brevi e quindi diciamo il sistema è testato proprio anche per questo modo i messaggi sono posti in maniera regolare in modo tale che possono essere fruiti in questa maniera e quindi appunto deve essere essenziale l'abbiamo messa nell'avvertenza che le persone possano cioè che sappiano già usare il bastone lo sappiano usare bene ovviamente chiaramente chi lo usa quindi anche in questo modo in questo senso quando vi affrontate una disabilità e magari ma normalmente cioè voglio dire non succede niente di grave però appunto è la tipica associazione che uno dice vabbè questa disabilità il non vedente usa il bastone per orientarsi però effettivamente non è così quindi chi viene col cane è un problema perché non sa usare per esempio il bastone non lo sa usare non è chi viene con l'accompagnatore né l'accompagnatore né lo vedente sa usare il bastone ok quindi in questo video adesso stiamo studiando appunto il modo per risolvere appunto questo problema mettendo già comunque nelle avvertenze che per non creare ovviamente delle false aspettative o del tutto in buona fede vi ridico anche loro non avevano calcolato appunto questa cosa però perché potesse essere appunto fruito nella maniera più più giusta possibile in sostanza eccoci qua allora poi ovviamente questa è un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione la comunicazione perché come diceva bisogna far bene le cose e poi bisogna saperle anche comunicare perché sennò rimangono lì purtroppo rimangono lì e tante tante realtà che appunto magari ci sono sembrano sembrano anche degli sprechi giustamente degli sprechi di denaro pubblico per cui è essenziale che questa cosa venga comunicata venga perché possa essere fruita nel caso specifico poi non è nessun spreco di denaro pubblico perché appunto è stato un service appunto della del Rotire e quindi però è necessario che un servizio che è stato fatto sia poi effettivamente le persone siano veste effettivamente in grado di fruirne e il primo alla prima cosa è che questa cosa si sappia quindi sito a parte abbiamo poi adesso andremo appunto a come dire a precisare ancora di più le modalità proprio di comunicazione in collaborazione proprio con l'istituto dei ciechi e l'unione italiana ciechi ipovedenti in modo tale che essendo quello diciamo il canale ovviamente preferenziale la cosa possa essere il più possibile conosciuta e poi appunto sfruttata nel senso buonissimo del termine e qui vi ho metto proprio alcuni alcuni luoghi dove proprio due o tre che avevo proprio sotto mano fisicamente sotto mano per esempio appunto nella rete dei grandi giardini italiani che è una società praticamente che accomuna praticamente 90 giardini grandi giardini di grandi ville di grandi anche giardini pubblici anche orti botanici come per esempio come quello di Catania eccetera eccetera sapessero appunto che in orto botanico era possibile fare questo luogo questa cosa sul sito della regione Lombardia nella commissione dell'ICOM che erano quelli più specifiche anche il FAI appunto che sapete è un grande è un grande collettore di interessi in questo senso e anche un grande diffusore appunto di notizie ed è ben come dire contento appunto di trasmettere appunto queste informazioni anche perché come diciamo appunto prima come vi dicevo in questi ultimi anni è anche molto attento alla fruibilità dei luoghi anche da parte di persone con disabilità e poi vabbè altri giornali però abbiamo appunto una ricca poi segna stampa ecco questo poi della comunicazione e quindi della possibilità di fruizione è un elemento che deve essere che spesso magari sfugge però deve essere ben programmato fin dall'inizio cioè io devo faccio una cosa però devo già arrivare alla fine sapendo che questa cosa deve essere fruita deve essere quindi comunicata ma soprattutto deve arrivarmi alle persone che ovviamente la devono sfruttare quindi anche in questo senso adesso dedicheremo i prossimi i propri temi anche perché ultimamente abbiamo tutto un sacco di cose abbiamo quattro cantieri in orto botanico uno perché c'era crollato il muro non so se avete ha fatto più notizia quello del crollo del muro di Berlino no in realtà appunto era un problema proprio di smottamenti diciamo del vicino il tipico smottamento del vicino di casa che però poi sembrava che l'orto non fosse curato fosse trascurato insomma tutte queste cose qua quindi quel cantiere lì che invece appunto non dipendeva assolutamente da noi poi abbiamo aperto appunto il via Gabba questa cosa che a livello di tempistica ha richiesto appunto sei mesi buoni di progettazione e altri sei mesi appunto di realizzazione proprio del piantiamo e trasponde e poi abbiamo fatto un mese un mese e mezzo di test con rifacimento dei messaggi quindi armatevi di santa pazienza perché spesso appunto di mettere in mano le cose che si sono fatte costa di più che neanche fare da nuovo e la cosa appunto che vi dicevo nel progetto deve essere in ogni progetto è per carità ma questa ancora più in particolare deve essere tenuta conto proprio quella della comunicazione quindi vi dicevo adesso appunto punteremo la nostra attenzione per andare proprio a prendere non a prendere per andare a cercare quindi andare incontro siamo noi che facciamo questo movimento proprio i canali di comunicazione che riguardano proprio la disabilità e questo tipo di disabilità in particolare proprio queste con che poi superano appunto la loro disabilità con l'uso appunto del bastone quindi con particolare poi riferimento anche al grande evento speriamo perlomeno che lo sia appunto dell'Expo anche per questo motivo i messaggi che adesso sono in italiano in inglese verranno poi cioè si verranno implementati con messaggio in francese ancor più altra informazione che vi trasmetto perché lo spagnolo che sapete essere la lingua più diffusa parlata appunto al mondo e quindi inglese vabbè di base perché quella diciamo poi lo spagnolo perché è quella più diffusa è l'italiano perché ovviamente è il tedesco perché i grandi viaggiatori i grandi diciamo meglio i nostri turisti che vengono da noi sono tedeschi il cinese non si può ovviamente dimenticare anche perché sapete benissimo che sarà il turista e quindi la lingua del futuro che per quanto riguarda ovviamente perlomeno Milano insomma quindi poi non so però vi direi come consiglio tenete vedete un po' anche quali sono i flussi oltre di turismo magari con persone con disabilità vi assicuro che ci sono delle grandi potenzialità in questo senso perché ci sono grandi flussi anche proprio specifici che si occupano appunto di come dire proprio di viaggi dedicati e poi appunto in base proprio al flusso di turismi dei vostri luoghi quindi può essere anche una ricerca interessante da poter fare magari anche anche con le istituzioni che sono proprio deputate a questa cosa quello che vi posso dire appunto è che comunque è stata a parte una bella esperienza non nel senso appunto così più scontato del termine è un'esperienza appunto che ha arricchito tutti noi perché ovviamente è stato uno scambio non è stato mai un andamento unilaterale del noi facciamo questa cosa e voi la eseguite assolutamente no abbiamo resettato veramente ciascuno le proprie certezze e abbiamo messo proprio sul piatto quello che ognuno poteva dare e con quel quale appunto si poteva poi realizzare questo progetto che a detta di chi appunto l'ha sperimentato quindi i nostri fruitori che poi sono tornati è veramente un percorso che permette loro proprio di vivere a pieno appunto l'esperienza in questo caso appunto dell'orto botanico di Brera questo bene grazie Marcella ti chiedo di rimanere lì così adesso se ci sono delle domande dal pubblico io non mi alzo volutamente perché comincio io apro io il dibattito direttamente quindi in questa mezz'ora prima si è affacciato anche il sindaco che ci raggiungerà tra una mezz'oretta era molto interessato a questi argomenti anche perché nell'ottica di quel sistema di cui ti parlavo prima del SAC abbiamo anche cominciato a progettare in questo senso diciamo così la fruizione dei luoghi fantastico tutto ovviamente è perfettibile implementabile a cominciare da questo da questa due giorni di seminario alla fine già stiamo pensando a una summer school a una settimana di interventi sul tema dell'accessibilità che abbiano come tema l'accessibilità dunque due allora due osservazioni l'osservazione sul fatto dell'orientamento spaziale come dicevi tu quindi della mappa in rilievo l'abbiamo potuto testare proprio ieri al parco nella riserva naturale in un luogo della riserva naturale a Torre di Castiglione dove diciamo è palpabile proprio il connubio tra cultura e ambiente perché è una collina boscata con macchia mediterranea dove ci sono dei resti di un antico villaggio medievale resti archeologici e lì per esempio ci siamo posti con Dario Scarpati e con Dino Angelaccio appunto come potessero fruire anche i ciechi di questa e quindi ci siamo un po' grazie a Dario ci siamo un po' proiettati in questa nuova dimensione perché entri in un nuovo mondo quando chiudi gli occhi quindi ci siamo bendati e abbiamo potuto proprio osservare questa è una diciamo una mia osservazione che poi ho trovato anche con gli altri o condiviso anche con gli altri proprio questo cioè quello di innanzitutto ci siamo avvicinati con gli occhi chiusi o con la benda alle mura facciamo un esempio abbiamo preso come esempio le mura che presentano una parte di basse risalente al periodo Peuceta quindi terzo quarto secolo avanti Cristo e poi la parte medievale sovrastante e lì si nota è proprio visibile ed è questo il problema che è visibile la differenza di struttura e lì abbiamo potuto proprio osservare chiudendo gli occhi quello che che ci raccontava appunto il tatto che ci raccontavano le mani e quindi innanzitutto abbiamo raggiunto il muro e già lì è un viaggio e poi abbiamo grazie diciamo ad alcuni di noi che facevano le guide agli altri bendati ma anche autonomamente bendati diciamo così abbiamo potuto toccare il muro e in effetti abbiamo potuto diciamo così notare che quello che cerchi di fare all'inizio è trovare i confini di qualcosa e quindi cerchi di capire ok io ho toccato questa pietra questa roccia ma dove finisce quanto è grande che forma ha e quindi cerchi subito i confini e quindi noti che magari i blocchi irregolari presenti alla base delle mura non li trovi invece più in alto dove i blocchi sono tutti più squadrati quindi innanzitutto la percezione dello spazio della grandezza e questo poi in effetti l'abbiamo anche trasportato a livello di proprio di mappe ieri ne parlavamo di mappe in rilievo anche lì con delle dimensioni standard che non superano il metro 100 cm per 70 se non ricordo male in rilievo con un determinato rilievo anche che riporti un certo grado di dettaglio anche della mappa eccetera quindi questo insomma l'abbiamo con una prima osservazione l'abbiamo potuto anche sperimentare ieri direttamente poi noto con piacere che è un sistema replicabile ad altri non solo in altri luoghi analoghi quindi altri giardini botanici o altri parchi come dicevi tu prima ma anche ad altri ambienti tipo un ambiente museale oppure archiuso mi divina questa cosa a questo proposito me lo appunto si vuoi un foglio? si grazie quindi un sistema replicabile quindi è importante anche l'altra cosa che mi fa piacere anche notare è quello a cui siamo arrivati forse ieri dopo l'intervento di Dino per esempio su concepire l'accessibilità ovviamente nasce come un aiuto magari per le persone con determinate disabilità e anche qui poi siamo scesi nel dettaglio del termine quindi non disabile o non portatore di handicap ma persona con disabilità quindi riportando al centro del tema la persona ma poi è stato bello anche notare che se consideriamo un cieco un sordo una persona su carrozzine eccetera ne parlavamo proprio ieri provando a diciamo così compattare il tutto in un unico essere umano in un certo senso trovi trovi sia una persona che è completamente priva di tutto quanto ma anche una persona che è dotata di tutto e quindi l'utilità non solo al diciamo così al portatore di disabilità ma poi un'utilità al normo normo dotato chiamiamolo così lo usiamo anche usato come dire per semplicità ma corrisponde scusatemi anche la realtà del fatto di saper poter usare infortunatamente tutti i sensi che abbiamo limitatamente perché il mio stesso dell'orientamento è pari a zero emblematico è stato l'esempio di ieri di Dino che ci ha mostrato una maniglia che oltre alla classica forma ha anche un appendice più bassa quindi utilizzabile anche da chi non arriva alla maniglia oppure anche ho pensato mi sono immaginato io per forse una semplicità mentale a chi non ha proprio le braccia perché è possibile spingerla alla maniglia e si apre ugualmente quindi è una porta che è quello secondo me è un po' diciamo così forse il simbolo dell'accessibilità perché uno quando pensa all'accessibilità almeno io personalmente penso a qualcosa che ti permette di entrare in un luogo quindi magari a una porta e quindi l'accessibilità io la immagino proprio come quella maniglia cioè una maniglia che chiunque può utilizzare e quindi un accesso che chiunque può poi sorpassare passare attraversare e quindi accedere ad un luogo quindi detto detto questo come osservazioni due due cosette due due semi domande una è tu hai parlato di metri no? sì cioè tra due metri ci sarà una svolta per esempio noi invece ieri abbiamo affrontato questo tema con i passi cioè quindi abbiamo i metri versus passi diciamo così io appoggio molto l'idea dei passi perché riporta sempre al centro dell'attenzione la persona perché sostanzialmente il passo è quello che abbiamo più concezione del passo piuttosto che dei metri anche se poi alla fine anche noi ci ritroviamo a prendere misure che so in campo facendo i passi quindi camminando come dei deficienti contando i passi per capire quanti metri misura una parete oppure un'area e poi ti volevo fare questa domanda ma in realtà avevi già risposto il fatto del multilingue hai detto già che c'è in italiano e in inglese giusto? quindi immaginavo immaginavo i diversamente italiani quindi per quello diciamo così quindi volevo sapere se avete pensato anche a quello bene io farei una cosa se tu sei d'accordo chiederei se ci sono altre domande e poi puoi procedere le risposte così li accumuliamo se c'è qualche dubbio qualche riflessione va bene allora facciamo così magari sì sì una cosa che mi pareva interessante dicevi prima non tutti ovviamente sanno usare il bastone sì e utilizzare questo è un pensiero utilizzare invece magari qualcuno degli unicechi che è bravo appunto ad utilizzare il bastone è una persona quasi esperta quasi una guida per essere lui guida degli altri quindi magari di un ipovedente quindi poter utilizzare lui come mezzo per poter portare le persone che hanno magari che utilizzano il cane o altre modalità di movimento è infatti un ideale al quale stavamo pensando anche appunto per come dire rendere come territorio di ecco se non voglio diventare nel campo del diversamento italiano faremo una cosa in diretta Baris ok che ne so io in altra o milanese allora no appunto c'è un'altra cosa un'altra domanda una curiosità c'è qualcuno invece che è venuto lì a chiedere di poter fare il percorso questo qui anche non essendo cieco ipovedente cioè per curiosità hai detto voglio fare questa cosa qui no 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 questo sì vabbè giornalisti a parte c'è qualche qualche altra riflessione no no ok lo stiamo maturando no vi dicevo appunto no sia appunto sia pagioneristi a parte che veramente sono sempre più curiosi però sì c'è stata diverse diverse persone che hanno voluto appunto sperimentare questa cosa l'abbiamo fatto fare appunto con grande piacere nostro e con grande dolore loro perché poi arrivati appunto a tre quarti del percorso dicevano ops no perché veramente non è una banale cioè un gioco proprio di vari centri di cose però è piaciuto molto abbiamo proprio lasciati alcuni addirittura vabbè o si sono tolti gli occhiali come me quindi erano già belli che cecati quindi non c'era problema oppure si erano bendati e anche qui appunto una cosa che mi ha fatto riflettere da una persona che aveva perso invece la vista e che volevo condividere con voi ma proprio come esperienza come portatrice di esperienze come esperta di niente no ma il fatto appunto che dicevo quando perdi cioè quando ti vendi come quando perdi la vista per cui tu non sei esattamente come un non vedente perché tu sei comunque portatore già di informazioni ok quindi quando voi vi vendate avete già il background di quello che già comunque avete visto avete conosciuto i colori eccetera 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 quindi c'è anche questa diversità nelle esperienze fate un piccolo inciso perché sapete io sono appassionata di ricerca quindi sapete che per esempio c'è una ricerca proprio sulle cellule staminali per cui chi ha perso la vista anche se soltanto si è salvaguardato un millimetro proprio dalla parte la parte nera che divide quella parte proprio che divide diciamo la nostra popilla dalla parte appunto che ci sta intorno lì c'è una parte che genera continuamente delle cellule staminali se soltanto una parte di quello penso all'incidente per esempio sul lavoro l'acido di tutte queste cose viene salvata in Italia in ricerca italiana riescono proprio a ricostruire la possibilità di vedere quindi in questo e ho parlato appunto conosco appunto i ricercatori che l'hanno fatto lo ricordo sempre con grande emozione perché pensate che cos'è non recuperare appunto la vista sì ecco quindi voi siete portatrici cioè portatori portatrici già dell'esperienza appunto che già avete accumulato quindi diciamo ovviamente voi per primi siete stati consapevoli appunto che avevate già l'idea di che cos'è appunto una pietra quindi aiuta aiuta ovviamente ed è oggettivamente il nostro unico mezzo per metterci nei panni di però appunto già con tutte le nostre conoscenze comunque che abbiamo appunto nel nostro cervello nei meandri appunto del cervello riguardo i metri allora questa cosa ce la siamo chiesta anche perché appunto diverse volte abbiamo sentito che per esempio dire un albero di 30 metri e diamo a dire un condominio di 4 piani la cosa vi dico vi è servita anche a me perché se per me 500 metri dietro l'angolo poi mi trovo a fare chilometri chilometri quindi anche qui ecco sui metri invece non praticamente l'abbiamo lasciati cioè nel senso che per loro è una cosa che evidentemente non so se nelle scuole ormai hanno già associato nelle scuole parlo dell'istituto di ricerca nelle scuole appunto diciamo dedicate a queste cose hanno già associato il metro ha capito ad una ad un passo ok io stessa faccio riferimento al passo perché vi ho detto appunto questa cosa ormai è universalmente nota per cui ecco però può essere può essere che abbiano già appunto non so dirvi perché appunto con precisione perché appunto non ce li hanno fatti correggere in passio perché probabilmente hanno già idea ecco di quanto proprio pensa proprio per standardizzare tra virgolette o normalizzare passatemi questo termine cioè so che siete come dire che capite l'intenzione quella di rendere appunto la vita di tutti i giorni fru vita il più possibile perché se vado l'inchia prendo il metro anch'io per prendere le cose perché ovviamente il mio senso delle misure è un po' un po' scarso sì sì ma questo percorso è fatto solo per i ciechi oppure è fatto anche per ad esempio persone che non riescono a deambulare perché anche noi abbiamo diritto di conoscere la natura e l'orto botanico ecco io volevo chiedere questo perché so che nella vostra zona cioè Milano c'è una certa frequentazione ecco di questo orto botanico sì infatti allora il percorso in sé cioè fatto così con questi trasfondere eccetera eccetera è fatto per i ciechi nel senso e con l'uso del bastone come vi ho detto no perché appunto non hanno che ne sono la possibilità di vedere il fiore il fiorellino piuttosto che la corteccia più che appunto i disabili appunto motori vengono accompagnati in visita guidata con noi anche perché purtroppo abbiamo ghiaia e quindi occorre che qualcuno lì però partecipano alle nostre visite guidate le aiuole tranne quelle che come dire sono più strette perché non sono nate così in cui il passaggio è più stretto perché è nato così appunto abbiamo l'accortezza di non far passare il gruppo eccetera però vengono proprio accompagnate da noi nelle visite guidate tranquillamente senza senza voler questo tipo di percorso è testato proprio sui non vedenti per quei motivi che vi dicevo per il resto appunto facciamo visite l'unico problema che non riusciamo oggettivamente a risolvere è quello della della ghiaia perché spingere appunto spingere si riesce però perché poi abbiamo anche tanti ragazzi che vengono con noi no no ma infatti lo stiamo valutando tenete conto sempre del fatto che siamo in un palazzo storico per cui molto banalmente anche per raggiungere le nostre cose sono cioè ci sono un po' dei vincoli però sì sì no ma infatti stiamo valutando anche quelle diciamo quelle cose che vengono messi quelle superfici che vengono messe anche nei parchi pubblici dove giocano i bambini che cioè ecco comunque è una cosa sulla quale diciamo ci stiamo approcciando poi pian piano stiamo sviluppando è un progetto pilota che poi diciamo può essere sicuramente migliorato e ampliato assolutamente è un primo inizio da una parte bisogna pur cominciare e poi anche perché poi vengono tanti bambini in visita guidata con le scuole eccetera magari cioè quello che noi preme è proprio non non farli sentire ma essere parte integrante del gruppo ciascuno quindi tranquillamente proprio partecipano alle nostre attività io volevo fare una domanda dedicata alla comunicazione è importante quindi l'informazione e la formazione al contempo appunto perché per rendere fruibile il servizio da quanta più gente possibile essendo una detta del settore sono giornalista volevo appunto sapere c'è risposta da parte dei media sul tema dell'accessibilità in generale quindi in particolare per quanto riguarda l'orto botanico e se ci sono appunto qualora la risposta dedicata non vi sia ci sono anche dei settori dedicati alla formazione dei new media cosiddetti new media non so l'università sta pensando a qualcosa del genere se c'è già questa sensibilità o meno non so se si è appropriato che mi risponda lei o il professor Angela allora rispondo per quello che è la mia esperienza appunto milanese poi ricordami che devo precisare la tua domanda devo rispondere bene alla tua domanda allora abbiamo avuto diciamo che anche qui rientra nella normalità della comunicazione cioè quando c'è l'evento è cosa nota appunto dei musei che quando c'è la mostra che poi magari esponi soltanto un quadro di tutto quello che hai risponde all'evento e quindi la copertura media è assicurata qui abbiamo avuto veramente una rassegna stampa notevole più difficile è stare come dire a dare l'informazione costante ma non è una questione di non sensibilità al tema della disabilità io lo faccio rientrare proprio scusa dell'accessibilità lo faccio rientrare proprio nel sistema generale della comunicazione almeno come funziona Milano per cui la notizia cioè noi abbiamo ripeto è avuto veramente una rassegna stampa alta così perché tutti ne hanno parlato sono stata personalmente intervistata anche a diverse appunto trasmissioni della RAI Mediaset cioè per dire copertura proprio totale bipartisan sul nazionale oltre appunto che sulle cose locali radio poi locali persone giornalisti proprio che coprivano poi i temi diciamo il media meglio dedicati proprio anche alle di settore insomma mi è venuta spontanea proprio perché avendo io sono di Gravina in Puglia e proprio stamattina nel tratto che facevamo insieme io e Urbano parlavamo del fatto che l'accessibilità si conosce molto poco almeno nella nostra realtà è il momento stesso in cui abbiamo avuto appunto io ho avuto modo di collaborare per il primo distretto sull'accessibilità universale con per la provincia di Pescara con Dino è partita di là però in realtà si sta sviluppando pian piano forse al nord è più sentita come sensibilizzazione da noi pian piano ci stiamo arrivando anche grazie a queste due giornate formative organizzate da da Polixena e prime due ok e quindi volevo appunto capire se ci fosse appunto la disponibilità alla sensibilizzazione nel nostro territorio in particolare e per quanto riguarda la risposta quindi da parte del nazionale mi sembra di capire che ci sia sì ma anche sui media locali ha avuto cioè in quel momento è stato parecchio pubblicizzato l'università stessa appunto ultimamente dedicherà un notiziario locale cioè un notiziario universitario solo a questo solo a questo tema poi diciamo io posso dirle della risposta che ho avuto per la mia esperienza più in là non riesco quello che le posso dire è che per esempio questo modello ha interessato lei ha visto appunto c'era anche l'assessore uno degli assessori di Milano poi insomma ha interessato parecchio proprio come modello e il Rotary stesso quindi i vari circoli del Rotary perché sapete che in Milano per esempio ce ne sono almeno sette o otto per dire questo per dire che è comunque una rete di sostegno cioè è importante appunto studiare questa cosa oltre che pecunio diciamo possibile però la sensibilazione è stata anche quella di dire rendiamo accessibile la città dicevo parlavo prima con loro e dicevo il fatto di rendere accessibile la città è una riflessione cioè non voglio insegnare niente che fossero più esperti di me tutti però è una riflessione appunto che facevo e che mi ricollego a quello che appunto dicevi nel tratto urbano cioè il fatto di rendere accessibile appunto un luogo e questa è una riflessione appunto che ho fatto anch'io in questi tempi è proprio quella di rendere accessibile appunto al portatore di handicap ma soprattutto poi a tutti io leggevo proprio un articolo anni fa sulla sulla dignità delle persone che dicono parte anche dalle stazioni nel portare la valigia allora io parlo di Milano parlo appunto della stazione Garibaldi appena rifatta parlo delle stazioni principali in cui ma io stessa voglio dire senza andare a prendere l'anziano ancora più l'anziano la persona che ne so che ha lì due bambini le carrozzine eccetera cioè il fatto di dover mettere in mostra di tutti che può riguardare tutti noi anche nel momento di stanchezza ok io ieri sono arrivata oppure che non so semplicemente siamo in quel momento anche soltanto in quel preciso momento appunto non nel pieno delle nostre forze nel poter dover come dire dimostrare la nostra debolezza o la nostra dover chiedere necessariamente aiuto a qualcuno o lasciare le nostre cose incostudite che ne so una valigia giù per portare sull'altra poi correre giù per andare cioè questo non è segno di un paese civile uno dei tanti segni dei paesi civili cioè quindi il rendere accessibile la scala l'ascensore che funziona sarà mai che queste funzioni cioè queste ascensore non lo so da quanti anni sono che non funzionano cioè va bene al disabile ma va bene a tutti a tutti cioè proprio a me a te a te a te quindi è proprio un discorso di civiltà di civicità ora prima di passare poi la parola a Dino Angelaccio che ci farà vedere alcune cose pratiche ascoltiamo magari uno degli ultimi interventi adesso non so se ce ne sono altri io voglio fare soltanto due puntualizzazioni e rispondere a lui che sì dunque la mia non è una domanda specifica alla dottoressa ma è una presentazione della mia persona e poi dei vari motivi diciamo che mi hanno spinto a partecipare a queste due giornate ieri purtroppo non ero qui ma ero alla fiera del turismo di Rimini e volevo innanzitutto presentarmi sono Andrea Brescia sono del ho creato l'ideatore creatore di un portale che si chiama pugliaaccessibile.it ho messo qualche bilettino sulla scrivania e volevo fare insomma una riflessione sulla comunicazione di sia dell'evento in se stesso sia dell'organizzazione in toto allora la prima cosa ci sono innanzitutto come location ovviamente a mio avviso va pure bene ma comunque si poteva scegliere una migliore due ovviamente la comunicazione quando mi è stato chiesto di mandare la comunicazione di diciamo di partecipazione non ho specificato ovviamente di essere disabile ma ovviamente questo penso che si possa anche evitare perché io penso che pure accessibile è comunque un portale che io ho inventato ovviamente comunque nel comunicare non devo specificarlo e quindi alla fine voglio capire a chi è stato rivolto a queste due giornate e diciamo a chi si rivolge e perché l'utente deve essere soltanto deve essere il disabile deve essere soprattutto il disabile non l'utente finale ma deve essere l'utente principale e dovrebbero esserci anche i professionisti faccio parte della società italiana disability manager e sono comunque un portatore diciamo un disabile e volevo dire anche un'altra cosa niente io comunque credo che sicuramente il portale che ho inventato è un portale funzionale utilizzabile da tutti anche con linguaggio WA e V3C si chiama Puglia Accessibile perché appunto si rivolge all'accessibilità e si occupa di turismo accessibile si vuole occupare di turismo accessibile quindi vuole essere un portale che deve essere sia mirato a dare dei servizi ai disabili e giustamente si è detto a persone con disabilità e non handicapati o diciamo o altre parole che si usavano prima adesso la principale parola è questa io sono stato contento di conoscere di persona il professor Dino Gelaccio che non conoscevo cioè conoscevo soltanto diciamo perché ci siamo parlati un tempo fa prima di venire di venire qui e quindi l'ho saputo addirittura da Siena neanche da Bari comunque quindi queste sono alcune delle tante riflessioni qualche riflessione sul tema innanzitutto che i non vedenti i non vedenti i lipo vedenti io che sono stato diciamo a Berlino come città europea diciamo accessibile mi sono accorto per esempio che c'è bellissima comunque l'iniziativa diciamo della dottoressa ovviamente ci sono delle cose per esempio che non si sanno per esempio non si usa soltanto il braille ma ci sono comunque le audioguide si sta tentando comunque disperatamente anche qui in Puglia di fare qualcosa ma siamo ancora abbiamo ancora tanto tanto da fare noi però non ci arrendiamo andiamo avanti e sicuramente va fatto molto anche sulle barriere culturali prima che barriere architettoniche che sono le barriere dell'indifferenza perché purtroppo qui uso un termine un po' barisizzato cioè il tipo quando si dice non è a me cioè nel senso ovviamente il problema è questo che quindi c'è questa indifferenza questo discorso perché sembra come una cosa lontana anni luce la disabilità ma in realtà è una cosa abbastanza importante e riguardo invece a questo percorso sensoriale dell'orto di Brera io comunque che sono molto attento a questo fenomeno perché a questo discorso dei percorsi molti sensoriali mi piacerebbe portare in Puglia anche qualcosa in più prendendo spunto proprio dall'iniziativa della dottoressa due grazie intanto no ma infatti una delle barriere culturali sicuramente che è stata battuta per esempio proprio in questo percorso è anche stata quella di usare proprio nella normalità come vi dicevo sembra poco ma proprio il timore l'imbarazzo di usare un termine piuttosto che l'altro il fatto sì sì ma voglio dire poi nella nella tranquillità perché ormai appunto quando si collaborano appunto tra persone come stiamo facendo adesso diventa come dire veramente tutto più più semplice proprio perché le barriere culturali sono state superate come so che ormai appunto come dire lo usiamo come divertimento conoscendo appunto che poi tutti si vogliono bene che i salentini insomma i baresi i baresi salentini avendo appunto amici da tutte e due le parti questo proprio vabbè adesso volevo buttarla con una battuta per dire proprio che però anche questa cosa del termine diversamente abili sapete che io ho cominciato a usare questo termine disversamente abili dopo aver visto una trasmissione tutti andando a dire alla televisione io trovo delle cose così interessanti vabbè comunque per esempio appunto facevano proprio vedere alcune persone che non avevano alcune abilità ne avevano altre e a me ha dato proprio questa idea ecco perché diversamente abili e ho cominciato a usarla poi con mio figlio facendo proprio vedere ma sai che effettivamente c'è una ragione perché vengono detto diversamente abili come? la parola diversità la parola diversità non se ne può dire più perché se no siamo diversamente normali diversamente 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 allora cancellerò ok la parola diversamente si chiama solo diversamente diversamente ok perfetto quindi impariamo anche un'essere perfetto tutto sommato io trovavo appunto che avessero delle abilità effettivamente diverse nella loro appunto normalità della loro come dire che effettivamente aveva e quindi questa cosa mi scusi personalmente la trovavo effettivamente molto fondata assolutamente necessaria perché in realtà appunto quello che noi poi siamo passati dal chiamare handicappati una persona con un endipa al diversamente abile per cui poi siamo passati a rifare tutti i siti eccetera eccetera in realtà proprio da questa cosa avevo scoperto che era tra l'altro non di tantissimi anni fa così che delle abilità diverse da quelle che noi apparentemente vedevamo c'erano e quindi trovavo fondate anche queste cose mi va molto meglio se appunto anche perché corrisponde a una maggiore realtà delle cose a definire appunto persone con disabilità quindi mi rifarò alla convenzione ONU prima che scoppia sì certo le dirò certo le dirò che addirittura appunto nella convenzione di questo certo sì 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 impariamo appunto il nuovo sicuramente siamo in un siamo in un momento appunto di incontro di scambio di conoscenze le dirò che tra le altre cose appunto proprio perché forse abbiamo lavorato come dire con un grande relax in questo gruppo di lavoro per cui quando continuavo a dire il non quando ero a dire il cic e dicevo no non vedente loro stessi mi dicevano ma tranquilla eh perché siamo ciechi quindi va benissimo o sordo ok quindi insomma quello che dicevo appunto no sarà creato comunque e questo è stato anche il superamento secondo me della barriera culturale che deriva anche dall'essere sempre sulla tensione di però probabilmente è stata un'esperienza come dire talmente bella appunto di avere superato anche queste certo riguardo permesso che tutto è perfettibile tutto è migliorabile ovviamente innanzitutto è già un primo input cosa che non era stata mai fatta quindi diciamo questo è stato un feedback anche da parte posso rispondere poi a lui che non avevo risposto da parte diciamo dei partecipanti o insomma voglio dire e delle istituzioni della regione che ha ammesso che una cosa del genere non era stata ancora fatta quindi già da questo punto di vista è qualcosa è certo è un primo passo che come ho detto prima più volte è implementabile migliorabile e tutto quanto non mi soffermo sui problemi tecnici o su queste cose perché insomma il seminario l'abbiamo fatto è venuto bene punto preferirei non togliere tempo invece sia alla tua integrazione che al discorso di Dino Angelaccio così andiamo sia a fare un punto sul lavoro di ieri che le integrazioni di cui parlavamo io volevo soltanto rispondere un attimino lui che poi no era semplicemente che sì allora questa cosa quindi sì le persone hanno voluto appunto provare hanno piaciuto eccetera eccetera tranne appunto il polso che dopo un po' invece sì pensiamo appunto di farci aiutare appunto nell'ottica appunto di collaborazione con i non vedenti che usano ovviamente il bastone che possono far da griglia questo toglie un po' l'esperienza però che volevamo far fare che era quello che certamente dà di più a chi non avrebbe potuto utilizzarlo l'idea è quella di creare proprio una connessione un filo diretto continuo con l'Istituto Italiano ciechi e i povedenti l'ultimissima cosa che volevo dire era questa dell'esperienza museale allora il fatto di Luca questa esperienza che abbiamo fatto in orto botanico vorremmo riportarla anche al museo astronomico voglio fare soltanto questo privissimo accenno perché poi non voglio assolutamente togliere altro tempo questa cosa ci sta impiegando molto più tempo perché è un grande esercizio che deve essere che vale anche per noi e che poi deve essere perché trasferire un oggetto quale può essere la comunicazione meglio la spiegazione e magari anche la maquette ok di un oggetto che è per esempio uno strumento un telescopio immaginate cos'è è un grande esercizio di ridurre all'essenziale quello che è uno strumento complesso quindi rappresentare trasmettere l'idea l'oggetto il telescopio il suo utilizzo la sua composizione eccetera eccetera vi assicuro che non è una cosa semplice e deve essere adesso al di là appunto dei messaggi però si vuole anche far toccare cos'è un un telescopio quindi anche la maquette deve essere fatta in maniera appunto opportuna quindi l'esperienza tattile della cosa in modo tale da poter illustrare gli elementi essenziali ma neanche essere impoverita talmente tanto da non poter rappresentare lo strumento in quanto tale quindi pensate che rivoluzione c'è appunto nel campo appunto dell'esperienza proprio museale veramente è un grande esercizio mi è rimasto comunque in mente quando a parte l'esperienza fatta appunto all'Albert Museum Vittoria d'Albert Museum in Londra dove ho visto proprio anni fa le prime esperienze anche di diversi stili delle cornici dei quadri quindi con queste maquette però anche questa cosa cioè quando appunto a San Francisco all'esploratorium c'erano appunto dei non vedenti che stavano toccando appunto la macchetta di uno strumento in questo caso un telescopio e dicevano perché appunto è da un po' che siamo in ballo cercare esperienze per poi trasferire appunto il nostro museo però per loro è essenziale sapere che quello vero c'è quello vero è qui so che questa appunto ma quello vero è qui cioè questa cosa ha lasciato molto quindi quello che è proprio come del trasmettere sì l'idea però quello che è vero è qui è qui vicino a te cerchiamo di renderti accessibile appunto per quanto possibile questa esperienza questo non è stato uno solo appunto perché un solo che poteva avere le sue però è stato almeno la maggior parte delle persone non vedenti con le quali meno male perché poi ero stazionato lì per un po' per vedere appunto le reazioni per capire quali potevano essere i miglioramenti insomma un po' della buona pratica che si fa sempre nei nostri musei ecco buone pratiche che poi sono esportabili che poi sono assolutamente esportabili infatti diciamo che questa è la nostra è stata un'importazione di un'esperienza fatta appunto in una città o una parte di città e che poi abbiamo utilizzato appunto all'interno del nostro museo bene grazie a voi grazie ancora allora io vedo la consigliera Katia Sportelli che è con noi prima si è affacciato anche il sindaco Giuseppe Lovascio l'amministrazione ha sostenuto comunque la nostra iniziativa come tante altre adesso prima di magari lasciare un intervento istituzionale in chiusura per salutare anche un po' i partecipanti passerei la parola a Dino uso questo così è più semplice non perdiamo tempo innanzitutto mi fa piacere essere tornati sul linguaggio che non è mai neutro e quindi non solo dobbiamo cercare evidentemente di raccogliere le indicazioni purtroppo il termine diversamente abile ce l'abbiamo presente nel codice di navigazione aerea nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana tristemente e quindi se non stiamo attenti a come comunichiamo facciamo 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 grossi danni perché poi il legislatore voglio semplicemente leggervi con l'ausilio degli occhiali un intervento che è stato fatto da due senatori della Repubblica di cui per pudore non dico il nome ma insomma nell'ambito di un intervento questa è stata la loro espressione quei cittadini infelici e minorati che la natura ha creato diversi e dipendenti dagli altri handicappati non vedenti sordomuti il cui recupero è affidato in prevalenza ad uomini e donne di buona volontà allora voi capite che se in Parlamento ci si esprime con un approccio culturale di questo tipo la traduzione anche normativa o di soluzioni tra virgolette tecniche non può che essere evidentemente disastrosa però perché il linguaggio non è neutro perché come vi raccontavo ieri se io all'interno di una segnaletica dove magari raggiungo un'armonia un buon equilibrio dal punto di vista della progettazione tra gli ingredienti delle altezze del contrasto cromatico dei materiali utilizzati della luminosità ci trovo scritto toilette per handicappati voi capite che io ho annullato completamente la buona progettazione e ho dato anche un messaggio ancora più perverso che conferma che secondo qualcuno purtroppo anche tra architetti progettisti e certificatori dovrebbe esistere il bagno per le persone con disabilità cioè per il terzo sesso per soggetti asessuati che non esiste all'interno della nostra normativa quindi bisognerebbe leggerle le normative e saperle anche interpretare non solo in maniera creativa ma in maniera rigorosa io oggi volevo però raccogliendo anche invece uno spunto molto interessante che ci ha fornito Marcella nel suo intervento a un certo punto alla fine ha detto noi però nel fare questo percorso abbiamo dovuto resettare le competenze questo è un passaggio molto importante scambiandoci delle riflessioni in queste due giornate stiamo facendo proprio questo cioè ognuno dal suo abito professionale e culturale cerca di lavorare in maniera diversa sicuramente più faticosa ma in un'ottica trasversale multidisciplinare in cui io non faccio l'architetto e basta il professore con cui abbiamo dialogato ieri non si occupa solo di museografia o di beni culturali tant'è che una cosa che ci dicevamo ieri durante questo laboratorio esperienziale è di come noi stiamo parlando in queste due giornate anche di progettazione plurisensoriale che non è né una cosa banale né astratta come poi abbiamo visto e continueremo a vedere e sperimentare però è qualcosa che ci viene anche da lontano c'è un libro di Alberto Angela che semplicemente sotto forma di diario portando in giro i suoi tre figli che hanno più o meno dai 5 agli 11 anni nei luoghi più preziosi della città di Roma ha fatto delle scoperte interessanti e curiosa anche dal nostro punto di vista ad esempio quando è andato al Colosseo ha cercato di raccogliere quei luoghi che suscitano nell'immaginario dei bambini e delle bambine alcune riflessioni anche intrise di curiosità si è accorto che voi sapete che il Colosseo era uno spettacolo che funzionava tutto il giorno che nelle ore calde della giornata nonostante il veliero cioè i tappeti cuciti sopra al tetto faceva un gran caldo che c'erano circa 250 persone che avevano uno strumento identico al nostro spruzzino che erano deputate a vaporizzare l'acqua agli spettatori per rinfrescarli ma la cosa curiosa è che all'interno dello spruzzino c'erano anche alcune essenze in particolar modo la lavanda e la rosa rossa che non solo coprivano gli odori ma inibivano anche la sudorazione e attivavano altri meccanismi interessanti approfondendo ancora di più è venuto fuori che accanto ad ogni cerchio concentrico dove ci siedeva il Colosseo c'era una segnaletica come quella che ha fatto vedere Marcella a un certo punto di marmo bianca con i caratteri maiuscoli neri in latino in rilievo e curiosamente sotto a questa segnaletica c'era la piantumazione dove c'erano esattamente le stesse essenze che io ritrovavo nello spruzzino quindi vedete che a volte dobbiamo anche recuperare in maniera intelligente un po' quello che ci proviene dal passato e proiettarlo in una contemporaneità che ci chiama le nostre responsabilità sull'accessibilità l'accessibilità non è una nicchia e non parla di qualcuno sta parlando delle persone reali di tutte le persone quindi tutte le persone si devono sentire chiamate in causa nel partecipare a costruire dei luoghi dei servizi delle forme di comunicazione in modo in cui commercializziamo un prodotto insomma tutto quello che una persona può progettare e realizzare perché venga utilizzata da un'altra persona che sia comoda bella funzionale ed economica io l'ho sottolineato anche nei materiali che ci ha fatto vedere Marcella sicuramente c'è questo approccio cioè realizzare delle cose che hanno una chiave estetica convincente ma hanno anche una sostenibilità economica oltre che poi coniugarsi con il discorso del materiale riciclabile io oggi volevo farvi vedere alcune cose concrete che sono già realizzate che sono il miglior spot per l'accessibilità perché ormai purtroppo noi siamo un po' stanchi e stufi di sentire solo delle parole e abbiamo bisogno di sperimentare provare vedere toccare verificare che certe cose non sono solo su un abstract progettuale ma sono state realizzate magari in un contesto anche molto vicino e poco distante da dove viviamo abitiamo e che ci ostiniamo a non vedere o magari ce lo rendono invisibile in particolar modo vi voglio far vedere una parte di un filmato che narra del nostro percorso museale itinerante che stiamo portando in giro da alcuni anni e che vorremmo portare anche in Puglia che si chiama Via Dato Non Toccare è ambientato nella preistoria è un percorso in cui il biglietto d'ingresso è la mascherina di essere al buio quindi è assolutamente gratuito però ha tutti quegli accorgimenti che consentono anche ad una persona cieca o ipovedenti di svolgere in piena autonomia questo percorso ambientato nella storia dell'uomo ma non è un percorso dedicato o pensato per le persone cieco o ipovedenti è esattamente pensato per le persone che si rifiutano di vedere perché nel momento in cui io ho modo di sperimentare questo percorso e mi rendo conto come si diceva anche ieri che il mio senso estetico per parlare di un tema è molto limitato perché io devo rieducare il tatto devo riscoprire la consapevolezza dell'importanza di altri sensi che ormai abbiamo abbondantemente censurato ma che sono fondamentali nel costruire all'accessibilità di luoghi culturali ma anche nel movimentare o nell'orientare le persone anche in contesti urbani quando noi proponiamo i viaggi di vietato non toccare che tra l'altro abbiamo portato in molte regioni italiane mancano la Puglia la Basilicata il Molise quindi ci tengo particolarmente a trovare le modalità per portarlo anche in Puglia poniamo una condizione ai territori alle istituzioni alle associazioni e cioè che non sia semplicemente una testimonianza o un momento di un percorso in cui magari si chiede di far venire questo percorso museale semplicemente perché è attrattivo o perché fa venire molti visitatori o perché incuriosisce o perché ci dà anche per fortuna motivo spazio per aprire dei varchi per comunicare l'accessibilità chiediamo che si assuma culturalmente la sfida dell'accessibilità e quindi la prima cosa che facciamo è creare un percorso di formazione e sensibilizzazione per quelle persone che sul posto devono animare anche sotto forma di vita di guida quel percorso stesso cerchiamo di far capire alle persone che c'è un altro anello importante nell'accessibilità non esistono solo le aziende o i professionisti o i marziani che io chiamo e che mi vengono dall'esterno a realizzare alcune soluzioni per realizzare l'accessibilità di un luogo culturale come ad esempio un museo io devo preoccuparmi non solo di formare come in questo caso le guide ma anche di coinvolgere quelle aziende non so penso al settore dell'inizia noi l'abbiamo fatto tante volte che è completamente in crisi e che deve essere riconvertito all'utilizzo per esempio di alcuni materiali interessanti dal punto di vista dell'accessibilità che consentono a livello di pavimentazione pannelli tattili olfattivi corrimano e quant'altro di essere utilizzati per rendere comodo e bello un luogo allora quando noi portiamo vi è dato a non toccare cerchiamo anche di coinvolgere queste aziende perché non dobbiamo essere noi poi a realizzare quei manufatti o quelle soluzioni che servono a rendere accessibile il castello di Gravina o altri luoghi bellissimi di cui abbiamo parlando in questi giorni ma devono essere le persone del luogo che devono sentirsi responsabili di acquisire quelle competenze che gli servono ad affrontare alcune sfide sull'accessibilità se non si chiude questo circuito l'accessibilità rimarrà sempre una rete innanzitutto poco democratica in cui io mi devo sentire geloso delle mie soluzioni che è esattamente il contrario dell'accessibilità nel senso che noi facciamo già fatica a parlare di accessibilità perché è un tema appunto che qualcuno considera di nicchia che riguarderebbe solo poche persone siccome ci riguarda tutti e riguarda la responsabilità di tutti quando c'è qualcuno che propone una soluzione o propone un'idea o anche un modo di lavorare multidisciplinare beh questo deve essere semplicemente trasferibile replicabile anche con piccoli costi in qualsiasi contesto naturalmente va personalizzato va calibrato e soprattutto come vi dicevo ieri quando parliamo di accessibilità noi dobbiamo evitare di fare un errore tragico cioè quello di far vedere che noi abbiamo la verità in tasca e che quindi la nostra soluzione è l'unica soluzione nell'accessibilità non c'è mai un'unica soluzione anzi è meglio che alcune più soluzioni convivano per questo si parla di progettazione multi-opzionale perché le scale possono convivere con una rampa non c'è la rampa che deve per forza coprire le scale a condizione però che non ci siano soluzioni discriminanti ieri vi raccontavo della rapina che abbiamo fatto in banca con la pistola d'acqua e passamontagna ma nelle filiali delle banche ci sono le soluzioni discriminanti ci sono gli accessi per lo meno quasi sempre nascosti e inaccessibili per far entrare le persone con disabilità non è quella la progettazione multi-opzionale la progettazione multi-opzionale vuol dire realizzare delle soluzioni che permettono alle persone innanzitutto di esprimere un'autovalutazione cioè di avere delle informazioni su quali sono le condizioni di accessibilità che tu mi offri e poi di scegliere quale soluzione adottare percorrere azionare se invece vogliamo imporre per forza un'unica soluzione facciamo un po' più fatica e sicuramente non facciamo un servizio né all'accessibilità né alle persone questo filmato è fatto proprio dal punto di vista delle guide che formiamo per animare il percorso aspetta fammi trovare prima il video perché questa è la famosa maniglia di cui parlavi di cui parlavi in questa maniera tu dai la facoltà a tutta la gente di poter partecipare cioè esempio due gradini tolti via non è solamente per noi con le carrozzine che possiamo entrare ma è anche per quelli che non riescono ad eambulare come dicevo ieri questo è l'importante il coso che ha fatto vedere lì sotto Dino il sollevatore ecco quello lì della chiesa perché in grosso modo le grosse barriere sono all'interno delle varie cattedrali e delle varie chiese ecco ci sono delle soluzioni che con poco si possono fare e che invece purtroppo non fanno io come ho detto ieri noi a Gravina abbiamo abbattuto uno scivolo e non abbiamo abbattuto una barriera ecco tutto questo è cioè non sono i centesimi degli euro che possono fare la differenza ma è il fatto che noi abbiamo bisogno perché abbiamo una popolazione che sempre più invecchia e sempre più fa fatica a deambulare questo è il problema sì sì assolutamente io facevo riferimento diciamo alle soluzioni di cui parlava Dino ieri piuttosto del braille diciamo le classiche lettere a rilievo l'economicità anche di alcuni materiali che spesso viene sottovalutata no assolutamente fermo restando tutto quello che dice giustamente urbano ovviamente però spesso questo è un purtroppo come dicevamo ieri anche è un aspetto che non è da sottovalutare perché poi sono le amministrazioni che si scontrano con questi con questi problemi di tipo economico e quindi è sicuramente una chiave d'accesso in più sei pronto con il video degli spunti almeno mi auguro perché l'accessibilità è anche uno strumento interessante a patto che esca dalle aule universitarie e incontri le persone io dico sempre appunto che l'accessibilità è un diritto deve far parte del diritto di cittadinanza è un po' come un bene comune come l'acqua deve essere soprattutto comunicato a partire dalle scuole primarie poi è giusto anche che se ne parli ci mancherebbe altro nelle aule universitarie in tutti i corsi di laurea però non solo nei corsi di laurea di architettura o di ingegneria spesso poi non si fa nemmeno questo questo per esempio è un esempio di collaborazione con Vincenzo Soverino di cui parlavamo prima che è il vicepresidente dell'Aism nazionale e che con un'associazione di giovani architette che si chiamano le creative abbiamo messo in piedi un percorso di alcuni mesi per riqualificare attraverso il design for all l'accessibilità universale un parco ad asti un parco importante perché è proprio situato nel pieno centro storico della città accanto alla piazza dove si svolge anche il loro palio io non sono assolutamente geloso del palio di Siena quindi anzi preferisco quello di Asti però naturalmente è una piazza importante che aveva un parco molto grande come poi potrete vedere non più vissuto non più abitato dalle persone ma frequentato solamente nelle ore notturne per attività non proprio ortodosse e allora ci siamo posti il problema di come usare l'accessibilità per mettere in rete le competenze le idee le persone attraverso dei laboratori di progettazione partecipata e consapevole di urbanità permanente ognuno ha dato il suo contributo la sua idea per costruire uno scenario diverso che adesso come potrete vedere offre una prospettiva profondamente diversa noi abbiamo cercato di rendere l'intero parco accessibile evitiamo di creare naturalmente fin dove è possibile zone sezioni percorsi perché naturalmente possono essere anche importanti per qualcuno però sono sempre delle soluzioni parziali che non ci consentono di affermare che l'accessibilità deve sapere intervenire sulla complessità dei luoghi e non solo sulla loro parzialità perché la parzialità ci restituisce comunque anche molte frustrazioni oltre che negazioni di diritti che invece dovrebbero essere assolutamente esigibili però nel fare questa questa esperienza abbiamo messo in campo varie soluzioni in questo caso prevalentemente soluzioni che ad esempio sposano fanno sposare l'accessibilità con la sostenibilità come vedete all'interno c'è anche il labirinto multisensorale che vi ho fatto vedere ieri in particolare sul sistema solare però ci sono anche particolari come questi questo qui queste sono ad esempio sono delle sedute che hanno integrato un pannello fotovoltaico non c'è nessun problema di surriscaldamento o come succede con le panchine di metallo che utilizziamo come griglia nell'estate insomma queste non ci restituiscono nessun problema ci fanno semplicemente sedere ma in questo caso alimentano l'energia di tutto il parco che non è piccolo i colori sono importantissimi i colori sono importanti non solo dal punto di vista del contrasto cromatico e qui voglio aprire una parentesi quando ad esempio noi dobbiamo fare una segnaletica dobbiamo analizzare il problema del contrasto cromatico ad esempio una delle combinazioni ideali è fare uno sfondo bianco e utilizzare il rosso o il nero come i colori principali ma qual è il passaggio successivo che non facciamo è che spesso facciamo realizzare una segnaletica ad altri magari ce la realizzano esattamente con questo contrasto cromatico efficace questi altri non sanno che l'ambiente dove dobbiamo porre la nostra segnaletica è chiaro è bianco quindi noi andiamo a collocare la segnaletica non consideriamo quest'altro contrasto cromatico e la segnaletica accessibile non si vede non si individua allora l'accessibilità la dobbiamo governare noi per questo ieri vi dicevo quando dobbiamo pensare all'allestimento di un percorso museale non possiamo non partire da chi lavora all'interno del museo non possiamo non coinvolgere le persone che abitano quel luogo io mi ricordo sempre di aver fatto un'esperienza molto interessante molti anni fa in un piccolo paese della Sabina non so se ve l'ho raccontato ieri che si chiama Castelnuovo di Farfa era un paese che si andava desertificando un paese a vocazione turistico-culturale con delle tradizioni artigianali molto importanti e che però non aveva più orizzonti quindi le persone se ne stavano andando tra l'altro era un paese che aveva un dislivello importante tra la parte bassa del paese e la parte alta questo è un altro contesto a cui prestare molta attenzione perché noi siamo dei maniaci delle scale mobili dei tapirulan che sono dei meccanismi infernali oltre che costosissimi è meglio ad esempio utilizzare per superare questa tipologia di dislivelli una soluzione banalissima e molto più economica come hanno realizzato a Todi sono quelli ascensori che rimanendo in orizzontale affrontano anche delle pendenze perché io non solo spendo di meno ma ho delle cabine dove entro comodamente come tutte le altre persone e ottengo un servizio che mi porta su in tempi umani che rispettano anche lo spazio e il tempo di una persona per organizzare magari una visita o un servizio allora l'accessibilità deve tenere insieme questi elementi a Castelnuovo di Farfa abbiamo pensato di costruire un museo dell'olio all'interno del palazzo comunale il museo dell'olio di Castelnuovo di Farfa è uno dei più importanti adesso che abbiamo nel territorio nazionale e contiene anche uno spazio espositivo non permanente quindi per altre allestimenti ma soprattutto ha consentito ad esempio siccome all'interno del museo abbiamo collocato un elevatore e dal momento che l'unica chiesa del paese era collocata nella parte alta del paese alle persone anziane di entrare nel museo e utilizzare l'elevatore per andare a messa può sembrare una banalità però questo ci ha consentito di abituare le persone a sentirsi i primi animatori culturali del luogo dove viviamo noi siamo sempre abituati a vedere i turisti come quegli altri in questo caso le persone prevalentemente anziane di Castelnuovo di Farfa sono stati gli artefici di una riprogettazione o ripensamento del sistema di accoglienza turistica di quel luogo che attraverso l'accessibilità anche attraverso l'accessibilità nella costruzione e nella realizzazione di un museo dell'olio ha riconvertito l'economia e la visione culturale di quel luogo tant'è che ora questo piccolo paese è tornato ad avere quasi 10.000 abitanti e ha riscoperto in un'ottica molto interessante di scambio tra generazioni arti e mestieri che si stavano perdendo e che sicuramente costituiscono un patrimonio importante nella nostra cultura allora anche e soprattutto piccoli luoghi devono essere pietre preziose su cui costruire l'accessibilità non dobbiamo pensare che l'accessibilità simbolicamente ci restituisce visibilità perché facciamo la pavimentazione pedonale con la pietra basaltina su Roma o gli ascensori in cristallo nel Colosseo facciamo anche quelli ma partiamo soprattutto dai piccoli luoghi dove c'è anche una possibilità di stabilire una relazione diversa con le persone e tra le persone esperienze come queste naturalmente ci hanno dato la possibilità di utilizzare lo spazio come laboratorio e cantiere di progettazione e quindi le soluzioni che sono state adottate qua per esempio in basso a destra vedete una di quelle cose che vi dicevo ieri le arpe eoliche sono degli strumenti interessanti soprattutto da collocare nei punti di osservazione quando io arrivo magari in un tratto di sentieristica dove effettivamente è impossibile andare avanti io posso far andare avanti chi vuole però devo ho il dovere di pensare di utilizzare quel punto di osservazione per continuare a dare informazione e suggestione al visitatore che invece magari non può proseguire e allora posso arricchire di elementi interessanti quel punto di osservazione strumenti sonori come l'arpa eolica che sono veramente semplici da costruire ed economici permettono di riconvertire i suoni della natura in note musicali e non solo lo fanno autonomamente ma se un bambino ci si avvicina può anche gestire le sonorità e gli strumenti stessi allora vedete che se noi mettiamo a disposizione una gamma di elementi che hanno anche una chiave estetica interessante considerando anche poi i cromatismi che derivano dal giardino multisensoriale o del labirinto riusciamo a definire delle soluzioni interessanti questo parco adesso per esempio è molto vissuto dagli studenti che sono tornati a studiarci quando noi ci siamo posti il problema della mobilità della light mobility quindi di come utilizzare soprattutto in centri storici o in contesti difficili perché magari con molte pendenze per esempio lo strumento delle biciclette e mi fa particolarmente piacere aver ascoltato l'assessore ieri che ci ha illustrato nel dettaglio il vostro SARC beh ad esempio una soluzione è che nelle rastrelliere siccome possiamo tranquillamente utilizzare delle biciclette che hanno anche delle pedalate servoassistite o delle biciclette che invece di avere due ruote ne hanno quattro ma possono essere utilizzate da chiunque quindi sto parlando da un bambino piuttosto anche da una persona che è seduta su carrozzina io all'interno per esempio delle rastrelliere noi in questo caso abbiamo messo non solo un pannello fotovoltaico ma anche ad esempio delle prese di corrente che servono a ricaricare sì anche i nostri cellulari ma soprattutto le batterie delle biciclette allora sono piccolissimi esempi questo è il giardino appunto multisensoriale sul sistema solare di cui vi parlavo ieri che però consentono di mostrare alle persone come in qualche modo l'accessibilità ci restituisce un luogo più bello più comodo più colorato non banalmente perché è più funzionale perché mi consente di organizzare in maniera molto semplice il mio modo di orientarmi all'interno di uno spazio e di vivere quello spazio abbiamo previsto anche delle attività naturalmente con alcuni animali abbiamo anche pensato a un parco giochi per tutti non è che si devono realizzare dei giochi speciali usciamo subito da questa logica si può nella progettazione e nella realizzazione dei giochi che vediamo nei nostri parchi non solo prevedere la pavimentazione monoblocco antischock ma prevedere delle altalene o dei giochi che possano permettere la socializzazione e la convivenza di bambini che hanno anche delle difficoltà con altri bambini o con altre bambine queste sono cose che esistono in commercio che basta semplicemente acquistare allora abbiamo immaginato ad esempio ci siamo lasciando un po' andare con la creatività per quello che riguarda il design però vi assicuro che queste panchine qui che non sono le uniche perché le panchine di questo parco io ve ne ho fatte vedere solo due esempi però le panchine di questo parco hanno una particolarità nella progettazione come vi dicevo ieri allora se io ci cado sopra e sono una persona anziana non ci rimango prigione non mi posso rialzare perché lo schienale integrato con la seduta c'è una lievissima pendenza non ci sono spigoli attenzione agli spigoli quando facciamo la progettazione anche dei nostri arredi urbani non intervengo sulla collocazione perché ci sarebbe da fare un capitolo a parte ma fioriere cestini porta rifiuti elementi sporgenti segnaletica a bandiera sono degli oggetti pericolosissimi per tante persone e non sono elementi di dettaglio non c'è un dettaglio nell'accessibilità se la consideriamo in questa filiera accanto a delle panchine dove si possono sedere tutti abbiamo fatto anche queste panchine che vengono molto utilizzate dai ragazzi e dalle ragazze semplicemente perché le trovano belle sono naturalmente di materiali naturali e sono soprattutto di un legno che non ha bisogno di grossa manutenzione perché uno dei costi che una pubblica amministrazione deve sostenere sono proprio quelli di manutenzione la manutenzione è accessibilità perché se io ho un sistema Loges a me non piace ma comunque ce l'ho se non ci spendo per farne una manutenzione quel sistema non solo non è più utilizzabile ma diventa un ostacolo per tutte le altre persone allora io devo scegliere anche con un po' più di consapevolezza i materiali con cui realizzo le soluzioni altrimenti non solo spendo male i soldi ma non do neanche le risposte al maggior numero di persone insomma questo è un esempio di come con poco si possa realizzare un parco dove le persone continuano a incontrarsi anzi tornano a incontrarsi anche in un'ottica di scambio di esperienze di competenze lo dicevamo proprio col professore ieri noi dobbiamo far uscire lo dicevi tu far uscire il museo dal museo il museo non è solo un luogo fisico e tantomeno virtuale è un luogo che si può anche spostare non solo nell'immaginario allora se noi ci approcciamo con questa logica nella progettazione possiamo ottenere degli ambienti che sono sì belli però soprattutto sono comodi per le persone che hanno più opportunità questi sono esempi per esempio in basso a destra c'è un esempio di corrimano un po' particolare no? come avete ascoltato ieri insomma noi dobbiamo sempre fare molta attenzione al corrimano il corrimano deve essere sempre doppio doppio nel senso che ci deve essere da una parte e dall'altra ma soprattutto che deve avere una doppia altezza all'interno dello stesso corrimano possibilmente a 75-90 cm perché io devo consentire anche a un bambino a una persona su stadio a rotelle che lo può fare di avere un sostegno se lo faccio solo come lo facciamo sempre a 90 cm lo faccio ma è parziale nel suo utilizzo lo devo fare con delle sezioni diverse quella superiore deve essere un pochino più grande rispetto a quella inferiore il corrimano però non è solo un elemento di sostegno può essere anche il filo narrativo di un luogo può essere lo strumento che non solo mi accompagna nell'utilizzo e nella fruizione di un luogo ma anche nella comprensione del luogo infatti nel corrimano ci sono integrate una serie di sistemi di segnaletica o pannelli didattici all'interno di questo corrimano scorre anche l'acqua che come vi dicevo è un elemento lo diceva Marcella benissimo prima nelle due vasche la sonorità dell'acqua che naturalmente viene resa progressiva è un elemento importantissimo nella ricostruzione della mappa dei luoghi e nell'utilizzo di quel luogo allora vedete che con un po' di creatività e di multidisciplinarietà a condizione che le persone si mettano in gioco si mettano in discussione e risettino le competenze come diceva Marcella possiamo possiamo realizzare dei contesti che sono più interessanti degli spazi che siamo abituati a sopportare o che ci impongono a volte basta riconvertire un luogo perché questo adesso è un luogo che è tornato ad essere abitato da centinaia di persone durante tutto il giorno anche la sera la sera è un posto sicuro perché chi vuole svolgere altre attività non va più qui un elemento importante per esempio in una panchina noi dobbiamo considerare anche che ci sono molti atti vandalici che ci sono molte persone che magari possono distruggere per qualsiasi motivo quello che costruiamo per esempio se una panchina la realizzo separando lo schienale dalla seduta io mi porto via un pezzo e quella panchina non è più utilizzabile se io lo schienale lo faccio integrato con la seduta è un po' più difficile allora facciamo attenzione anche a questi elementi che non sono banali ripeto non sono dettagli sono elementi qualificanti di una progettazione perché sono le uniche condizioni che ci consentono di avere una piena funzionalità degli oggetti che non sono e non possono essere oggetti di design devono essere belli ma soprattutto funzionali invece noi li facciamo forse belli dipende dai gusti certamente non funzionali all'utilizzo diffuso da parte delle persone e voglio far vedere poi magari il filmato lo vedremo anche più tardi questa è la basilica di Napoli in cui stiamo lavorando una basilica molto complicata la basilica più antica di Napoli con un'altezza di 53 metri ma soprattutto una profondità che si sviluppa per 40 metri e che ci dà accesso a un sistema di cavità ipogee che si sviluppa per circa un chilometro e che noi stiamo cercando di rendere accessibili l'ingresso è da qui ma in questa cripta che è di circa 500 metri quadri di spessore si arriva attraverso questo baratro all'ingresso che è quel buchino che vedete in fondo al percorso delle cavità ipogee noi abbiamo lottato per mesi con le soprintendenze rispetto alla possibilità di mettere un elevatore come avevo detto ieri noi qui potevamo mettere un ascensore una piattaforma elevatrice invece abbiamo messo un ascensore da cantiere perché? perché l'ascensore da cantiere torno a ribadirlo perché è un elemento interessante questo perché è un elemento concreto di come si possono spendere meglio i soldi e dare un servizio diverso alle persone un ascensore da cantiere non è un'opera provisionale per legge si può utilizzare anche come opera permanente in un luogo di questo tipo costa un decimo di quanto costa un ascensore costa un quinto di quanto costa una piattaforma elevatrice che tra l'altro ha il pulsante che mi obbliga a tenerlo premuto se io lo voglio utilizzare e poi lo posso fare come voglio in questo caso per esempio noi lo stiamo rivestendo di tufo quindi è un elemento architettonico che collega i due livelli ma non è invasivo rispetta questa parete è la parete che dà l'accesso attraverso questo spazio alle cavità allora su questa parete ci sarà un ascensore da cantiere a cremagliera che ha semplicemente un binario con il motore sopra che consentirà alle persone di scendere in tempi ragionevoli nelle cavità dove naturalmente il percorso è usufruibile da chiunque indipendentemente dall'età dai bisogni e il percorso attraversa un percorso nella storia che va dalle mure greche alle cisterne romane fino ai rifugi antiaerei questo per esempio è una fase di di cantiere in cui si attraversa una cavità che era una cisterna romana noi abbiamo naturalmente sostituito la passerella della cantiera con una passerella con dei materiali antisrucciolevoi con un doppio corrimano abbiamo rimesso l'acqua all'interno della cisterna sapete perché? perché i romani usavano le anguille e i capitoni per tenere pulita l'acqua e quindi noi abbiamo rimesso l'acqua non solo per riprodurre come effettivamente venivano usati quei luoghi ma anche perché poi l'acqua sarà proprio lo strumento narrativo del luogo ecco vi ho fatto vedere delle cose che sono possibili da realizzare in contesti molto complicati come quello di ieri tra l'altro scusami Dino se ti interrompo i tempi stringono tra l'altro l'acqua come abbiamo detto ieri è il filo conduttore un po' del nostro sac quindi è un po' l'elemento narrativo che unisce su un territorio nostro come quello appunto il nostro territorio quindi un territorio carsico ovviamente il filo conduttore è quello dell'acqua tra l'altro l'importanza anche dei piccoli luoghi è fondamentale come dicevi tu il recupero dei piccoli luoghi che poi alla fine non fanno altro che restituire la dimensione l'uomo del luogo stesso e quindi creare anche dei luoghi di aggregazione dei centri di aggregazione molto importanti dal punto di vista anche sociale in un certo senso e anche questo rientra un po' nell'ottica del sac ora io chiederei al sindaco al sindaco Giuseppe Lovascio di fare un piccolo intervento un piccolo saluto integrativo a quello che ci siamo detti noi e poi magari l'amministrazione ci ha comunque sostenuto in queste attività stai vicino a me sono timido ho bisogno di compagnia intanto il mio saluto è un saluto di benvenuto e di complimenti per il lavoro che state facendo qui per quello che state elaborando per come vi state confrontando ho notato devo dire che sono stato soltanto qualche minuto però ho avuto l'opportunità di verificare con mano nelle due relazioni che ho ascoltato sebbene solo per per spezzoni ho notato il livello della conversazione il livello dello studio che è stato fatto che è davvero interessante e quindi vi chiedo e vi auguro di continuare a confrontarvi su questi temi perché ne abbiamo proprio bisogno noi amministratori abbiamo bisogno perché noi siamo travolti travolti dall'amministrazione in sé da tutto quello che è burocrazia da tutto quello che purtroppo è politica da tante cose che spesso e volentieri sono poco produttive e quindi per poter in qualche modo apprezzare il nostro territorio per poter dare un valore per poter renderlo accessibile e questo è un altro concetto meraviglioso che ho visto state avete elaborato e devo dire che diventa assolutamente importante in un periodo in cui abbiamo un po' stiamo constatando dopo tanti anni di devastazioni che forse era meglio prima forse prima certi luoghi li conoscevamo meglio li apprezzavamo di più erano fruibili perché non le avevamo intaccati o comunque non le avevamo trascurati e quindi adesso andiamo un po' alla riconquista di tanti di tanti di questi luoghi che poi appartengono alla nostra storia al nostro patrimonio culturale e storico e quindi questo percorso va assolutamente implementato va necessariamente bisogna bisogna percorrere queste strade bisogna parlare di accessibilità bisogna continuare a studiare questi metodi questi questi ritrovare questi strumenti più che ritrovare questi studi di cui abbiamo appena parlato ci danno la possibilità poi di viverli meglio questi luoghi e noi quando ci richiamo in questi luoghi abbiamo proprio bisogno di una qualità di vita superiore a quella che invece ci appartiene durante le nostre ore magari lavorative prettamente lavorative e quindi per poter avere questa qualità di vita abbiamo bisogno anche di tanti di questi accorgimenti quindi vi ringrazio noi come amministrazione ce la mettiamo tutta con i limiti che oggi hanno le amministrazioni ma senza nessuna paura di operare di dare di più abbiamo proprio voglia di appassionarci a questi temi abbiamo proprio voglia di riappropriarci dei nostri luoghi abbiamo proprio voglia di vivere perché tante volte tante volte nella nella nostra vita ecco quello che abbiamo dimenticato è quello che troppo spesso troppo spesso ci manca è un posto per stare insieme un modo di stare insieme un modo di socializzare è un modo di sentire anche la natura vicina e finalmente abbiamo compreso quanto questo sia importante e quindi ci crediamo continuiamo a lavorare buon lavoro a voi e grazie per il contributo che avete voluto dare grazie grazie sindaco è in effetti un ritorno anche alla natura lo stiamo sperimentando proprio in questi in questi anni questo bisogno diciamo da parte delle famiglie da parte di tutti di potersi riappropriare dei luoghi di potersi riaffacciare alla natura appunto e ci servono degli strumenti per perfezionare per migliorare questa cosa e quindi diciamo così la regione la regione Puglia con laboratori dal basso ci ha dato la possibilità di portare qui da noi insomma fior fiore di esperti come Dino Angelaccio Marcella Mattavelli e Dario Scarpati che sono andati via ieri e niente e quindi creare un inizio di confronto è solo una prima un primo sassolino insomma e poi ovviamente implementabile tutto ora Dino vuoi aggiungere vogliamo vedere il filmato vuoi aggiungere qualcosa se ci sono magari delle domande osservazioni anche sui lavori portati avanti ieri mi sembra di capire che ci sono anche realtà locali forse sarebbe il caso di presentarsi perché non tutti le conosciamo una era che non avevo capito molto il discorso di azzerare le competenze però volevo capire invece se invece bisogna partire dalle competenze perché il problema dell'Italia è che noi abbiamo viviamo di esperienze da vent'anni noi dobbiamo vivere di certezze che significa far e mettere in campo le competenze cioè quella frase che hai letto all'inizio è un problema per noi nel senso che continuiamo a fare cose belle come esperienziali ma quella frase che hai detto di quel senatore di quella parlamentare è un problema vuol dire che lì ci vuole qualcuno che vada a parlare di disabilità o di accessibilità che abbia competenza quindi va cacciato dal Parlamento non va diciamo tenuto e come vanno cacciati e quindi non non supportati tutti quelli che nella pubblica amministrazione hanno poca competenza vanno cambiati di ruolo semplicemente quindi io non l'ho capita questa cosa azzeriamo le competenze poi seconda cosa sì poi mi risponde e poi dicevo benvenga diciamo fare i laboratori dal basso però io credo che la regione Puglia abbia se ne parla voglio dire da parecchi da parecchi anni competenze io faccio un altro mestiere mi occupo di sanità però credo che ci siano tuoi colleghi piuttosto che quindi fare un laboratorio significa confrontarsi anche in un tavolo tecnico dove ci sono cinque architetti dieci ingegneri sette persone con disabilità che hanno competenza perché non è che il disabile è un mestiere ci vuole l'architetto disabile ci vuole il dottore disabile no? quindi un bel tavolo e quindi il laboratorio viene meglio questo no no questo è quello che ti dico io e che sono bene allora i laboratori dal basso i laboratori dal basso io prego la regione e chi li organizza la prossima volta di fare dei tavoli tecnici e di invitare sia i portatori di interessi e sì perché se no così sei stato bravissimo è una bellissima esperienza però credo che ci sono colleghi tuoi in Puglia che di accessibilità parlano da anni e non vengono ascoltati quindi quale opportunità migliore di creare un laboratorio che ho condiviso come dicono gli esegeti ogni frase va considerata nel contesto no? quindi il contesto era in un tavolo di confronto che era costituito da noi che avevamo l'orto botanico da io che era conservatore dai botanici dai ciechi non vedenti che li ripeto no momento allora ok torno 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 scusate torno ok ecco il fatto di ognuno ovviamente era portatore della propria competenza se no non sarebbe stato necessario che ci fossero presenti i non vedenti e neppure i botanici e neppure i progettisti e quindi non ci saremmo rivolti all'uno piuttosto che l'altro che l'altro ancora quindi quello che dicevo prima è che si azzerava la propria se vogliamo dire pre-esperienza nel vivere per esempio nel caso specifico l'orto botanico come pensavamo potesse essere visto noi che ci lavoriamo e lo fruiamo da un non vedente per esempio quello vi dicevo quando andiamo in giro semplicemente bendati comunque noi portiamo delle nostre esperienze che ci deriva dal fatto comunque di vedere ovvio che ciascuno portava la propria competenza specifica la propria professionalità la propria condizione in questo caso di non vedente o cieco li ripeto loro stessi hanno detto che non è la parolaccia quindi io continuo a usarla tranquillamente quindi il azzerare la competenza e credo appunto che anche Dino e i giastanti appunto abbiano compreso appunto il contesto non è quello di diventare tutti analfabeti o deficienti ma era proprio quello di come dire partire da una corrispondenza cioè di mettersi in gioco e capire cosa l'altro vive in quel momento piuttosto che diciamo portare l'esperienza quindi in questo caso il mio specifico di togliere qualsiasi mio preconcetto nel confronto nei confronti di una persona non vedente che potesse andare a vivere l'orto botanico nel quale io diciamo quotidianamente lavoro questo chiedo che almeno io l'ho dato per chiaro insomma è ovvio che non si va a zerare ovviamente la competenza in botanica piuttosto che la competenza gestionale ma questo era il contesto riguardo poi un piccolo appunto io portavo non sono ve l'ho detto prima appunto un'esperta nel settore mi sto facciando appunto a questa appunto questa esperienza avendo chiamato le persone poi competenti appunto a realizzare questo percorso stesso vengo quindi a portare un'esperienza che abbiamo fatto in orto botanico con un gruppo di lavoro composto da persone appunto che hanno lavorato intorno a un tema con le proprie rispettive competenze ma azzerando tutti i preconcetti o i prepensieri magari anticipando no? quello che l'altro poteva voler avere o poteva voler vivere ma mettendo proprio sul tavolo di lavoro tutte queste tutte queste richieste tutte queste appunto situazioni insomma questo era il mio il contesto che mi interessava di precisare ok io volevo chiarire praticamente si parlava di resettare le competenze quindi fare rete mettendo a disposizione il proprio know-how quindi che possa pervenire dal territorio locale così come esempi diciamo di best practice appunto quelli realizzati per esempio nell'orto botanico sapere come poterli importare nel territorio e credo che sia proprio il messaggio dell'accessibilità questo rendere appunto interessante recuperare le esperienze dei vari luoghi e importarli nel territorio poi mi permetto anche di diciamo di sentire da un pensiero ovvero il laboratorio dal basso è un momento iniziale attraverso il quale immettere realtà nuove e il tavolo tecnico viene subito dopo sì ma bisogna iniziare nel senso è un punto di partenza ok una sua cosa io per esempio avrei fatto il tutto in un centro di domotica per esempio a Conversano c'è la domos una persona si organizza fa un programma lo presenta alla regione e chiede di poterlo sì ma vanno convocati tutti va convocato qualcuno per dire un'associazione una cooperativa richieda chiamare le competenze di partecipare a tutti i programmi va bene noi innanzitutto ringraziamo i partecipanti siamo contenti che ci sia una diciamo sia sentito il tema e che che diciamo ci siano anche dei suggerimenti perché noi siamo sempre aperti ai suggerimenti alle correzioni alle cose quello diciamo siamo abituati perché ormai diciamo sono cinque anni e passa che insomma organizziamo convegni a livello regionale quindi insomma anche a livello congressi diciamo in Europa abbiamo visto di queste di questi dibattiti animati perché il tema è sentito e questo non può fare altro che piacere io una cosa solamente chiedo o spero diciamo così intanto salutiamo il sindaco e va via prego sempre diciamo di stare attenti alle modalità quello è diciamo noi ci proponiamo sempre con un'estrema umiltà le cose con un'estrema semplicità proprio veramente da ignoranti e non vuol dire neanche azzerare le competenze significa magari anche usare del buonsenso a volte ripescando quello che diceva Dario ieri quindi diciamo solo questo dico Dino io volevo semplicemente precisare raccogliendo lo stimolo che proveniva da te possiamo darci del tuo perché tu hai posto un problema di metodologia e poi anche di concretezza giustamente c'è un problema di metodologia e poi il palco come il palco di lì e quindi insieme dobbiamo realizzare il palco a questo è il palco perché è un diritto partiamo dalla norma è un diritto a rendere avanti e lo stampo quindi questo il modo in Italia deve sapere le imprese o dopo di che troviamo le soluzioni però partiamo dal diritto perché se non partiamo dal diritto quindi allora volevo dirti ad esempio che la cosa importante soprattutto in questa formula che dal mio punto di vista è apprezzabile come strumento che la regione ha messo a disposizione è quella poi di aprire un cantiere dove le metodologie si praticano a me è capitato per esempio recentemente io ho un'amica forse la conoscerai anche tu si chiama Consuelo Agnesi che è un architetto è sorda e per esempio noi ci siamo spesso confrontati con quello che succede non so all'interno di un ascensore se c'è un problema di malfunzionamento l'ascensore si ferma e allora rispetto alla normativa esistente ad esempio è assolutamente inutile la telecamera oppure altri tipi di segnali perché una persona sorda del citofono non sa che farsene allora per esempio lì adesso si sta cercando di implementare la normativa proponendo semplicemente una piccolissima tastiera che consenta a una persona di chiedere aiuto e questo si è fatto in un laboratorio come quello che proponevi tu cioè in un cantiere in cui le persone le professionalità le idee si confrontano e cercano di porre a disposizione della collettività degli strumenti concreti però momenti come questi sono secondo me ancora più preziosi perché consentono di creare uno spazio simbolico e fisico per affrontare l'accessibilità perché se la restringiamo solo agli addetti ai lavori noi rischiamo di costruirci un recinto allora dobbiamo trovare la formula per passare dai convegni ai laboratori cantieri però questo è un passo importante perché a me ha fatto molto piacere notare i loro sguardi prevalentemente diciamo la pratica è composta da studenti e studentesse scambiandoci poi delle impressioni al termine di queste due giornate quello che ho colto è ma ho assunto un altro punto di vista cioè non conoscevo l'accessibilità ma non è che non la conoscevo perché non mi sforzo di leggere la normativa anche se leggo la normativa non so che farmene perché non la so interpretare oppure non ho gli strumenti né tecnici né culturali per farlo allora se noi costruiamo un terreno di fertilizzazione questo consente ai tecnici e anche alle persone che vogliono esercitare i loro diritti di partecipare quindi sono due piani che si possono tranquillamente incontrare anzi si devono incontrare sta a noi costruire il segmento per incollarli no ok grazie Dino io diciamo un applauso un attimo per andiamo sicuramente via di qui tutti i più più ricchi fermo restando che insomma oggi pomeriggio comunque continua la parte pratica sul lì al giardino botanico a Monopoli adesso ci organizziamo per un attimo per mangiare qualcosina e poi per organizzarci per partire va bene io volevo giusto come ho fatto all'inizio chiudere con un ringraziamento perché adesso chiudiamo anche la diretta streaming e quindi la registrazione e quant'altro e quindi volevo giusto ricordare che questo laboratorio dal basso è appunto sostenuto dall'Arti Puglia l'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione e dal programma Volenti Spiriti è patrocinato dal comune di Conversano dal SAC Mari tra le mura e dalla Lama degli Ulivi dove ci reccheremo oggi pomeriggio quindi a Monopoli dal giardino botanico dei Vivai Capitano Stefano e dal progetto Infolaghi che è partito nel 2010 il laboratorio è stato organizzato dall'associazione Polixena di Conversano dalla scuola di specializzazione in beni archeologici il laboratorio di storia e critica della museologia e museografia dell'università degli studi di Bari e la Icom Italia la commissione tematica accessibilità museale quindi io vi ringrazio e vi invito al prossimo laboratorio molto più grande e in strutture più accessibili ovviamente saremo anche più attenti noi la prossima volta visto che abbiamo degli strumenti di lettura migliori bene ok vi ringrazio e quindi buon proseguimento anche dei lavori grazie 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 grazie